Buongiorno a tutti, oggi parleremo dei FANS, che sono delle molecole utilizzate nella terapia del dolore. Vengono utilizzate fin dagli anni 70 e sono venute alla ribalta proprio per trattare il dolore diciamo acuto, soprattutto infiammatorio. Immaginiamo che abbiamo a disposizione una vasta gamma di molecole. L'acronimo significa farmaci infiammatori non steroidei per differenziarli dai cortisonici utilizzati tipicamente anche in questo caso nelle malattie infiammatorie. Le domande che dobbiamo farci quando andiamo ad utilizzare queste molecole però sono fondamentalmente tre ed è molto importante farsele. Innanzitutto come e quando utilizzarli. Vanno utilizzati laddove ci sia un dolore infiammatorio acuto nel minor dose possibile e per il minor tempo possibile. Per trattare patologie croniche è necessario differenziare il tipo di molecola e in questo caso bisognerà per forza chiedere al medico curante quale dover utilizzare se è utilizzata per più giorni e più tempo. Dobbiamo chiederci poi anche perché le andiamo ad utilizzare. In questo caso il colloquio col medico curante che spesso è il primo fornitore delle nostre medicine è molto molto importante perché possiamo avere a disposizione il farmaco giusto al momento giusto. Ci sono persone che utilizzano terapie antinfiammatorie in maniera incongrua perché magari fanno tante terapie, prendono altre medicine come ad esempio la comunissima acido acetilsalicilico, la famosa aspirina utilizzata per molte malattie cardiovascolari. Se associata ad un FANS può dare un effetto gastrolesivo importante. Oltre a questo persone soprattutto anziane che hanno problemi di insufficienza renale è meglio ovviamente che lo utilizzino in maniera estremamente controllata o non utilizzarlo per nulla. Detto questo sono ottime molecole che debbono essere usate e prese sotto assolutamente prescrizione medica nel modo giusto e al momento giusto per evitare dei rischi importanti come soprattutto il rischio di sanguinamento gastrico. Grazie a tutti.